Non c'è un chiaro dominatore nella sfida televisiva tra i numeri due per le presidenziali americane. Joe Biden e Paul Ryan si sono stretti la mano per poi attaccarsi duramente su temi come la spesa militare, l'aborto, il debito pubblico, le tasse, ma soprattutto la sanità e la politica estera, Siria e Iran in primis. A un Ryan che accusa il presidente Obama di inazione con l'Iran, Biden risponde che la guerra dovrebbe essere sempre l'estremo rimedio, al momento gli iraniani non hanno alcuna arma atomica. Quello che vediamo sui nostri teleschermi, replica Paul Ryan riferendosi anche alla Siria, è il disfacimento della politica estera di Obama che rende il mondo più caotico e ci rende meno sicuri. Poi il dibattito si è spostato sui temi della riforma sanitaria e della politica fiscale con Biden che accusava i conservatori di voler favorire i ricchi. Ed ha aggiunto, questo tipo di politica non mi stupisce da parte di qualcuno che ha detto che il 47% della popolazione non si vuole prendere le responsabilità per il proprio futuro. E recentemente l'amico qui in un discorso a Washington ha detto che il 30% degli americani sono degli approfittatori, ma si sta parlando di gente come mio padre e mia madre, i miei vicini, gente che in proporzione paga più tasse di quante ne paghi Romney. Stiamo andando nella direzione sbagliata, ha concluso Ryan, 23 milioni di americani non trovano lavoro, il 15% degli americani vive in povertà, oggi non ha l'aria di una ripresa. Appena concluso il dibattito si è aperta la gara a capire che abbia vinto, una gara dall'esito incerto, con preferenza per il democratico Biden tra i blogger, mentre i sondaggi commissionati dai principali canali televisivi danno vincitore repubblicano Ryan. Grazie a tutti.